Far bene domani sera significherebbe tanto, tanto perché il nostro primo obiettivo stagionale ce l'avevamo bello chiaro dentro la testa. Ci siamo costruiti questa possibilità. E' immaginabile che se non fossimo riusciti a vincere almeno una partita con il Chelsea l'ultima partita sarebbe stata decisiva e abbiamo l'occasione. La squadra sa riconoscere queste grandi opportunità, sa gestire oramai questi grandi impegni perché abbiamo già giocato partite così importanti, così pesanti e quindi siamo delusi della partita di domenica ma come ha detto giustamente Sandro questa è un'altra competizione, un'altra partita, un altro avversario quindi solamente grande concentrazione sulla partita di domani. Non siamo una squadra capace di gestire queste... Questo non è il nostro modo di giocare, pensare ad andare in campo e risparmiare energie e avere un atteggiamento più di attesa. Siamo portati ad attaccare. Dobbiamo attaccare, dobbiamo farlo bene. Dobbiamo farlo con compattezza, con equilibrio. Affrontiamo un avversario che nelle ripartenze può essere un avversario molto pericoloso per la velocità dei propri attaccanti e per la qualità anche dei propri attaccanti però assolutamente non dobbiamo cambiare il nostro modo di giocare. Questo nel modo più assoluto. Stamattina mi sono segnato chi mi ha fatto i complimenti e anche mi sono segnato quelli che non mi hanno fatto. No vabbè ma è il merito di tutti. Io ho condiviso con loro questo rinnovo perché sicuramente il club mi sta dando fiducia mi ha sempre apprezzato, stimato e tutelato. Questa è la cosa più importante per un allenatore e sono felicissimo di questo rinnovo ma ho ringraziato i giocatori perché senza di loro chiaramente tutto il lavoro che abbiamo fatto non sarebbe stato possibile e mi è piaciuto molto quello che ha detto Sandro nel senso che è un percorso che è cominciato qualche anno fa e questo è un momento che ci può dimostrare a noi stessi e agli altri che questo percorso ci fa crescere e quindi passare il turno domani è una cosa da quale teniamo tanto. Credo che sia un percorso che sicuramente meritiamo e sia un percorso che ci rappresenti un po' a tutti noi in questi anni che abbiamo passato insieme. Siamo partiti dal basso diciamo, dai preliminari d'Europa League e siamo arrivati fino a qui quindi sappiamo che siamo in un momento importante della stagione in una partita che ci dà la possibilità di migliorarsi dall'anno scorso e di raggiungere il nostro primo obiettivo della stagione. Grazie.